Siamo qui a Nagoya non per caso, ma perché qui ogni anno, il primo weekend di agosto, si svolge il VCS. Questo è l'albergo dove incontreremo le due rappresentanti italiane per il VCS. Venite con me, andiamo a conoscerle. È proprio un sogno perché io ancora non riesco a crederci, sono qui e niente, non riesco a crederci. Forse anche perché vedendo il Giappone nei manga e negli anime mi sembra di esserci già stata qui, però comunque è tutto stupendo. Esatto, essere in Giappone è un sogno che si realizza perché sin da bambina desideravo essere qui e non pensavo di riuscirci ad arrivare in Giappone grazie al cosplay, un mezzo che proprio è arrivato tardi nella mia vita, quindi è un sogno realmente che si realizza. Ora vi faccio vedere il cosplay che porterò alla parata, costume di Ikaru da Angelic Leyer. Questo è il costume della parata di oggi e qui abbiamo i vari pezzi gettati sopra il letto. Ci vediamo oggi alla Ossu Parade. Stiamo assistendo alla parata di Ossu. Sono troppo a Pichon! Ossu Parade! 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 Ci siamo, sta per cominciare la gara. Sono emozionata anch'io. Ovviamente faccio il tifo per l'Italia. Gli ultimi momenti? Prima non so di cosa, non so come definirlo. Oddio. Facciamo il tifo per l'Italia. Ci siamo, inizia la gara. Entro numero 6, da Italia, Maluna e Maria. Siamo, inizia la gara. Siamo, inizia la gara. Siamo, inizia la gara. Dio, la mia amore, la mia amore. Siamo, inizia la gara. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 Sì. 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 Sì.